Anna Pettinelli ha eliminato Joe Montana ad Amici 2022. Una decisione che ha preso durante la settimana, tra una puntata del Pomeridiano e l'altra. Non ha perso tempo e ha subito detto al suo allievo, anzi ex allievo, di preparare i bagagli e lasciare la scuola, e la casetta. Ha fatto di tutto per dimostrare che la sua sarebbe stata una scelta vincente da quando ha messo Joe nella scuola. Eppure i limiti del ragazzo erano evidenti e le sue lacune così tante da non essere colmate in tempo per il serale di Amici 21. Una rimprovero che le hanno fatto sia Rudy Zervi sia Lorella Cuccarini, è come se la Pettinelli avesse bruciato questa possibilità a Joe Montana. Amici passa solo una volta nella vita, fatta qualche rara eccezione. La professoressa ha dimostrato invece di non averci pensato abbastanza quando lo ha ammesso e di non averci pensato due volte a metterlo alla porta. Come se fosse un giocattolo non funzionante, ma dimenticando che ad Amici di Maria De Filippi sono i ragazzi a mettersi in gioco, per loro può essere la grande occasione. Joe Montana aveva già il suo percorso avviato, i suoi singoli vengono tanto ascoltati su Spotify e forse è stato questo a far gola alla Pettinelli. La prova da Talent Scout a caccia su Spotify però non è andata bene, così oggi ha deciso di eliminare Joe Montana. Lo ha convocato in sala e, in videochiamata, gli ha detto, non posso ammetterti al serale con due singoli. Purtroppo sulle cover sei deficitario. Diventa un problema di schieramenti. La squadra deve essere allo stesso livello, se c'è un anello più debole mette a rischio la permanenza degli altri. Ha deciso di eliminarlo anche perché ha notato in lui una certa emotività, pure cantando i suoi inediti. Anche tanta insicurezza, che Joe Montana ha in parte confermato, più che insicuro o emotivo è il fatto di ritrovarsi in una situazione da un momento all'altro. La sua insicurezza deriva dal fatto di doversi misurare con persone che hanno un bagaglio ad amici lungo già cinque o sei mesi. C'era tanta pressione per lui, perché era già abituato a cantare davanti a un pubblico. Non è il Joe che mi aspettavo venisse fuori, ha replicato la Pettinelli. Per lei insomma Joe sarebbe stato un anello debole nella squadra al serale e ha scelto di sacrificarlo. Joe Montana ha protestato con Anna Pettinelli, che avrebbe potuto farlo entrare a settembre. Mi dispiace essere entrato per stare così poco tempo e tornarmene a casa. Avrei preferito un no ed entrare a settembre dell'anno prossimo, con un percorso più sereno e sarei migliorato come tutta la classe. Con meno pensieri in testa. La professoressa non ha messo in dubbio il talento di Joe, in cui pare continui a credere, ma non ha notato in lui quella forza che sperava di trovare per prepararsi in poche settimane per il serale. Joe Montana eliminato ha tentato di aprirsi una strada per la prossima edizione, dispiace tantissimo anche a me e mi dispiace che questa possibilità ci sia una volta. Ormai sono entrato, non posso riprovarci. Questa è la cosa che mi dà un po' fastidio. Donauk 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.